Un ponte ideale tra le scuole di Sassari e una di Kampala, capitale dell'Uganda, trasformata nel giro di pochi mesi con meno di 10.000 euro da una Ollus sardo-spagnola. L'idea è stata di un sassarese Roberto Schirru che ha creato una Ollus, espandere orizzonti, che ha realizzato un pozzo, vere aule e letti da destinare a 100 orfani che dormivano per terra. Ora al via, la seconda fase del progetto, una campagna di sensibilizzazione tra i bambini della scuola elementare Sandro Pertini di Sassari.